Salve a tutti da JustLuca del forum Autorobot.it e benvenuti alla seconda parte della video recensione del Devastator Takara Combiner Wars classe Titan. Anzi, in Giappone Combiner Wars, la linea si chiama United Warriors, proprio a essere precisi ma diciamo sempre Combiner Wars in generale. Dopo l'intro e aver parlato di metà gruppo della parte bassa del Devastator insomma con Mix Master, Scrapper e Long Owl passiamo alla parte alta e iniziamo con Hook, gancio, no rostro scusate gancio era l'autorobot giallo, si trasformava comunque sempre in un camion gru e come vediamo innanzitutto come mezzo ovviamente siamo sempre nella stessa fascia di grandezza di un Voyage al grosso modo da dove il solo Long Owl, come già detto, è grande praticamente quanto un Liga e vediamo anche la somiglianza con il G1 comparato con il G1. Con la cabina di pilotaggio laterale, la torretta posteriore con un'altra cabina per comandare la gru, il braccio gru. Qui vediamo un pezzo viola che risalta un po' un pugno su un occhio ma ovviamente sarà la testa del Devastator un po' come il modulo aggiuntivo di Devastator, della testa Devastator diventava una sorta di arma di modulo che teneva sull'arma però a parte che quindi appunto la testa sarà parte del di hook, non un pezzo aggiuntivo, soltanto che purtroppo abbiamo un problemino, ovvero se l'arma di hook, quella esclusiva Takara molto praticamente uguale all'originale del G1, può attaccarsi al braccio così come l'arma originale di hook si agganciava su questo foro qui, non c'è altro spazio per raggiungere eventuali altre armi. Quella delle istruzioni abbiamo detto, era già parlando di Mix Master, sarebbe la canna del cannone complessi del cannone di Devastator che però è usata solo nel Robox, ma così quindi l'abbiamo lasciata a Mix Master però non trova proprio alcun aggancio o luogo per poter essere inserita. L'arma avanzata che sarebbe stata invece quella di Long Gaul, mentre abbiamo dato la parte centrale della pettorina, quindi in teoria si sperava che questa in qualche maniera si agganciasse al veicolo di hook, ma non ci sono neanche qui nessune prese o spine apposite. L'unica sarebbe appoggiarlo qui, incassarlo un po' alla bella e meglio, che poi c'è anche il cannone, il laser. Non è una posizione ufficiale, non è per niente fissa, è la pena più incastrata però, se no al limite lo si mette nel vano apposito questo cannone qui di Long Gaul, però è un po' sprecato buttato lì lateralmente. Niente peccato che non ci sia una spina qualcosa apposita per poter inserire l'arma, almeno questo cannone qui almeno. E purtroppo altro fatto brutto di questo giocattolo è che se l'originale G1 era assai giocabile, con la possibilità di alzare il braccio, allungarlo con l'uncino al finale, anche l'uncino era mobile, e ruotare la torretta. Invece questo rostro moderno di taglia Voyager può solamente alzare il braccio. Ha un uncino qui appena accennato, non può neanche ruotare il braccio, la base della torretta, tantomeno si può allungare. Ed è un peccato, onestamente, che appunto un mezzo così... Capisco il discorso dell'economia fatta, bla bla bla, poi vediamo anche la trasformazione qui. Quindi magari la basetta che sia fissa glielo concediamo ancora ancora. Però che non si possa ruotare, non dico neanche che si possa allungare, va bene, ma almeno ruotare il braccio qui alla base della torretta. Non è proprio massimo, insomma. non è stato corretto questo difetto neanche nella versione Takara. Comunque qui abbiamo una sorta di fessura che però, dicevo, purtroppo, non serve un cavolo. Cioè, pensavo che magari si potesse inserire in qualche maniera la pistola eccitata. Questo, dicevamo, neanche questo ci va. Proviamo questo tantomeno. E questo, insomma, il nostro, purtroppo, è parecchio sprecato come mezzo. Non è brutto da vedersi, per carità. Però, niente, sprecato non è stato ben realizzato, almeno per farlo, per rendere un pochino più giocabile. Da notare che, a differenza finora degli altri colleghi, la testa qui è ben visibile. L'ho ruotata io, però sarebbe ben visibile. Cosa che invece, ironicamente, non succedeva nel G1, dato che la testa si abbassava. Passando alla trasformazione, vediamo quella del G1, che dove bisognava allungare per poter ruotare la parte anteriore, che diventa le gambe. Le braccia, anche qui, si allargano. Trasformazione nella media del gruppo, solitamente. E la testa, abbiamo visto, si alza. non era stabilissimo, visto che bisognava clintellarlo con il braccio. Mentre il nostro combiner wars, anche lui ha una trasformazione molto simile, con le braccia che si allargano, che si abbassano. La base e la parte posteriore del mezzo si abbassa e leggermente bisogna spostarlo verso destra, visto dal mezzo, in modo da incastrare questa parte qui, abbassandola e va a coprire il modulo che copre, che contiene la testa di Devastator. La testa, abbiamo visto, può girarsi. E le gambe si trasformano alla maniera di scrapper, come già visto. piuttosto che ribaltarsi semplicemente, si dispiegano e si riuniscono. Un pochino, un po' più, non dico complesso, però, la sistemazione delle gambe, visto che bisogna incastrare bene. Ci sono dei perni qui a agganciare bene. E infine le mani, i punti si tirano fuori dall'interno. Ed abbiamo il nostro hook, con la sua pistola. e che poi infine, non ci sono problemi, ora mettere i fucili in mano, il fucilone qua. Intanto togliamolo, è un po' ingombrante. Come altezza, siamo sempre nella media. Prendiamo scrapper, che comunque è il più basso del gruppo. Quindi siamo, con altezza siamo normali con Mix Master. E possiamo vedere che, prima cosa innanzitutto, che non è il massimo, è che non è proprio stabilissimo. Poiché, magari non serve puntellarlo del tutto, ma il peso del braccio scaraventato all'indietro, non lo rende stabilissimo. Come aspetto, vediamo che, e rispetto anche, ovviamente sempre al più solito discorso, se possiamo attaccare molto fedele alla controparte dell'anime, soprattutto alla colorazione. Innanzitutto vediamo come non ci sono i piedi fatti un po' strani, con la cabina qui, solo dalla parte laterale della gamba sinistra, dato che rimane dietro. Quindi sono, visto frontalmente, dei piedi più speculari. E praticamente anche, va bene, le ruote alla fine ovviamente sono frontali anziché posteriori. E soprattutto, sono argentate, almeno da parte qua degli stinchi, dato che, appunto, nell'anime, nel cartone animato, si vedeva, appunto, che aveva tutte le gambe agentate, a parte il modulo, questo, quello laterale. Ha un pochino sciarbetta, però ora ha delle gambe un po' più decenti, anche dei piedini decenti. Fedele, comunque, anche il generale, le gambe, le braccia, così come si vede sempre nel cartone, con le ruote sulla parte superiore delle braccia. Vista così, poi, questa è l'articolazione occidentale, basta, sarebbe l'articolazione occidentale, basta, che non serve il massimo vedere lo stacco così. Infatti, per fortuna, anche qui, l'attaccaraccia ha messo una pezza e ha aggiunto questa ulteriore articolazione, che permette sia di piegare bene, al massimo, il gomito, sia che comunque, magari, di piegarlo solo così. E si perde, per fortuna, il discorso che è attaccato, come se fosse attaccato con un filino, che io l'ho detto, se lo si vuole piegare solo a 90 gradi. Per il resto, al solito, ruotano gli avambracci, ruota la testa, abbiamo visto, gambe articolate in assoluta maniera, e piedi che possono inclinarsi, per le pose. E qui c'è anche un pochino di più lasco, che si possono muovere avanti e indietro, non solo lateralmente, che però, appunto, abbiamo visto, un po' pregiudica la stabilità, dato che, anche se alla fine non è che ci sia questa necessità di mettere il braccio così buttato indietro. Peccato il braccio, che non possa, che non possa essere usato, rimane fisso. Che se non sbaglio così, in qualche modello, fill party, si può proiettare in avanti, ma ovviamente fill party sono di tutt'altra qualità. Comunque, diciamo, un bel robot, fedele al G1, a parte le gambe, però che motivi? Non male comunque l'aspetto. Peccato il discorso del veicolo non giocabile, non molto giocabile, almeno come era il G1, purtroppo. Comunque, visto così, non è affatto male. Ovviamente gli perdoniamo il discorso di avere sto pezzettone qua, aggiuntivo, sul veicolo viola, dato che almeno non abbiamo la testa vagante, come gli altri pezzi del devastato. E direi che possiamo passare al prossimo componente. Proseguiamo ora con i componenti della parte superiore di devastator, ovvero le braccia. E quindi con il braccio destro del Gestalt, ovvero scavenger, che da noi in Italia, trent'anni fa, l'avevano chiamato giustamente braccio. Infatti c'è anche una scavatrice con lo spasso braccio. Adesso il nome esatto come sovviene. È parecchio fedele all'originale, con la cabina un pochino più piccolina. Come aspetto siamo lì. Più compatto rispetto al Constructicum Generation medio, che può essere il nostro Mix Master. e soprattutto però abbiamo innanzitutto sì, il braccio scavatore che si muove esattamente come l'originale, con lo snodo alla base e a metà braccio, quindi giocabile. In più può ruotare tra i due snodi, cosa utile, relativamente parlando perché la vera utilità sarebbe stata quella di poter ruotare come il G1 la base rispetto ai cingoli, come appunto funziona nei modelli reali, cosa che invece non è possibile. Purtroppo a causa, come vedremo poi, della trasformazione. Peccato almeno non avesse la parte che si ruotava alla base, che avrebbe avuto più senso, ma un minimo di snodo, diciamo, di giocabilità. Gli resta lo stesso, anche se non è la stessa cosa, dato che appunto va a perdere. Non siamo ai livelli di scrapper come giocabilità, ma per fortuna non siamo neanche quelli di Duke, che era proprio bloccato il braccio del gancio. Ricordiamo il G1, poteva inserire l'arma della pistola sopra il tettuccio e soprattutto aveva il pugno, cioè l'avambraccio di Devassator come arma, che però un po' impediva il movimento della pala che doveva rimanere bloccata. In questa maniera, e ricordiamo che al posto del pugno si metteva un apposito missile a forma di trapano, che comunque era davvero indovinata come arma per questo giocatore, insomma, per questo modellino. Cosa succede invece? Che anche il Combiner Wars ha un'arma simile, che diventerà poi l'avambraccio. Al posto del trapano ha direttamente una batteria di missili, però nel Combiner Wars non c'è la possibilità di ricreare appunto la versione armata del giocattolo, del veicolo, come nel G1, nella versione americana. Nella versione giapponese Takara abbiamo l'arma della pistola, come nel G1, che può essere inserita tramite questo perno, questo foro, in uno dei due perni. Ovviamente la mettiamo dalla parte destra del veicolo, in modo che non si spari addosso, per sbaglio, sulla cabina, sul braccio. E soprattutto, non è la stessa cosa che metterlo qui nel detuccio come nel G1, però, soprattutto, grazie a questo aggiuntivo foro, un po' come Mixmaster, appunto con il fucile suo e il fucilone, la canna del fucilone delasto, In questa maniera possiamo ricreare, ecco qui, la versione veicolo armato, come nel G1. Non è che sia stabilissimissimo, però dai, fa la sua figura, ma io credo, insomma... La trasformazione dell'escavator originale era alquanto originale, appunto, rispetto alla trasformazione degli altri constructi, dato che i cingoli si ribaltavano, si dispergono, proprio si apriva a metà, praticamente, con i cingoli si ribaltavano, i piedi spuntavano, lottando le punte dei cingoli, per adesso, dopo, si estravenevano le braccia e la testa. E avevamo il nostro braccio, con il braccio, appunto, della group, però era un pochino sporgente, al limite, bisognava abbassarlo, insomma, anche se dava fastidio mali a vederlo sotto le gambe. Questa versione moderna, e anche di Taya Voyager, praticamente, ovviamente, è, per fortuna, anche fatta decisamente bene, e, come vediamo, come iniziamo a vedere, ha una trasformazione degna di un masterpiece. Non vorrei allargarmi troppo con le affermazioni, però, adesso vediamo come che i cingoli si separano, e danno la possibilità, dai moduli laterali, di ruotare in avanti, rispetto alla parte, bisogna abbassare, ecco, per avere un po' di rasco, di movimento. Vediamo che si piegano, verso il basso, i moduli laterali, si alza il velicolo, la cabina si ripiega, e, rialzando, diventano le braccia, contanto di primi che spuntano. Tornando alle gambe, ritorno in posizione, come prima, il bacino, quello che diviene il bacino, e si piega ulteriormente, un po' dura, vediamo, l'articolazione, scusate, e si blocca. Ora, le gambe si allungano, si fissano bene al bacino, e vediamo come i piedi, le punte di cingole, questa volta si aprono in due, divenendo un piede decisamente più stabile. Infine, la testa, spunta, aprendo il pannello centrale, e richiudendolo. Ah, ovviamente è da notare come la posizione, la trasformazione ribaltata rispetto al G1, quindi il braccio dell'escavatore non punta verso il basso, ma punta verso l'alto, e si ripiega anche meglio, il più aderente possibile alla schiena. Volendo si può ruotare in questa maniera, e ricorda la versione G1, ma in questa maniera, col braccio penzolante, però non è male neanche così. Innanzitutto vediamo l'altezza, che è nella media degli excavator, leggermente, lasciamo lì, degli altri excavator, a parte scrapper, che è piccolino, preso hook come esempio, la pistola, grazie a questo perno qui, può essere anche inserita sulla camma fumaria che era nel vetro, però ovviamente la mettiamo in mano. Idem, cosa che non era possibile fare nel G1, può impegnare, il robot può impugnare la batteria di lanciamicili. Comunque, che sarebbe anche la sua arma principale nella versione Takara, nella versione Asbro, da notare, però in effetti non sarebbe, cioè, come arma sarebbe più la spalla, non ci sono fori però, non sarebbe neanche simile a nessuna versione vista, però sarebbe un paio di fori qua sui lati, nelle spalle, non sarebbero stati male. Finalmente, si può dire grazie alla semplicità della trasformazione in braccio, come vedremo, anzi, come proprio con l'originale, era semplicemente il veicolo appoggiato, attaccato al corpo, con l'avambraccio a parte, come pezzo esterno, insomma. Finalmente, anche questo scavenger, oltre ad avere un aspetto palesemente simile e devocativo del G1, è molto posabile, grazie a ball joint sulle spalle e anche sui polsi, sui gomiti, scusate, che permettono di ruotare meglio i gomiti, così come a ball joint sulle gambe, vedi, ecco qui, e ruota, non solo ruota, no sì, ruota, sì, a livello, no, sempre a livello lì, sopra le ginocchia, i piedi anche qui si piegano all'interno per poterlo posizionare, per farli assumere pose, e cos'altro, la testa poi anche qui si muove, si abbasso un pochino, somiglianza al G1, diciamo, vedendo il setteio originale, per fortuna non è così sputato, dato che il setteio originale non aveva, era tutto verde, a parte, non c'erano le decorazioni, qui, era tutto, qui tutto viola, tutto verde, quindi per fortuna un po' riprende il giocatore G1, con un po' di decorazioni colorate, oltre alla piastra argentata. Poi, dicevamo, sì, vabbè, manca la rotazione del bacino, ovviamente abbiamo visto come trasformazione del bacino è separato dal torso, ed è davvero un salto di qualità rispetto, appunto, agli altri constratti con Generation e Combined Wars, insomma, sempre nel discorso che sono questi constratti, come sono praticamente dei masterpiece commerciali, diciamo così, semplificati, con giusto, giusto quelle articolazioni che servono proprio a rendere più di un banale deluxe, non so di tutto, più di un banale deluxe ingrandito, però comunque l'aspetto, la massa, ma nella plastica non sembra neanche, ci sono anche qui parti vuoti, ovviamente, non tantissime, però, in questo scavenger, insomma, è davvero uno dei migliori di questo gruppo, con rispetto, come articolazione di tutto, anche il discorso dell'articolazione sopra, cioè, sotto, il, sopra la, il poter piegare il gomito, è migliore per poter assumere, farli assumere cose che non appunto, come quello di Hulk, che abbiamo appena visto, che è sotto la rotazione del polso, sotto il vomito, insomma, avete capito. Molto bello, insomma, questo scavenger, fedele, evocativo, e l'unica cosa, se era, peccato, per il discorso che non può ruotare la base del veicolo, rispetto ad essere più giocabile, però, per il resto, è davvero ben fatto. Concludiamo, infine, la nostra lunga carrellata, con l'ultimo componente della banda, ovvero Bonecrusher, il braccio sinistro di Devastator. Bonecrusher, che, come vediamo, è una ruspa, come l'ordinale, molto fedele, anche qui, non che ci sia tanto, chissà, cosa da discostarsi, insomma, a parte la cabina, qui, qui è un semplice tettuccio, mentre qui è proprio una cabina coperta, e con l'imperabrezza. Come giocabilità del bulldozer, così come l'originale G1 muoveva appena appena la ruspa frontale, anche qui, vediamo che si può muovere, e basta. Anche come ruspa, insomma, in generale, si dovrebbe avere i bracci, in teoria, alzardi di più, però, insomma, va bene. Un pochino di lasco, qui, il movimento c'è. Anche il G1 aveva il braccio sparante, davambraccio sparante di Devastator, senza la pistola, però, mentre qui abbiamo la pistola, sempre come l'originale, nera, non verde, come in giocattolo, che si inserisce, giusto giusto di straforo, in questo foro qui, che sarebbe un foro per una vite. Mentre, purtroppo, il lanciamissile di lavambraccio batteria di lanciamissili, non ha alcun foro ufficiale da poter essere inserito, scusate, neanche qui, tanto meno, purtroppo, niente, peccato, non abbiamo fornito un foro degno di questo nome. Ci sarebbe questa fessura ufficiosa, dove si può inserire così, tanto per fare un po' di scena, non è ovviamente una cosa ufficiale, però almeno possiamo mettere i lanciamissili e fare la sua figura, diciamo, almeno risolviamo il problema, anche se alla fine, non so cosa costava, magari fare un foro anche qui, magari, proprio sul dettuzza, in modo da poter, ma... insomma, da avere in questa maniera qua, anche perché il discorso che queste armi qua, sono le armi, le sole armi che si ritrova il devassato rasbro e quindi potevano sprecarsi, a meno di mettere una posizione anche nei singoli veicoli, invece che a più palle di tutti, al solo long haul. Ricordiamo come Bonecrusher sia, per trasformazione, il più interessante, il più originale di tutta la banda dei Constructicons, dato che possiamo vedere la trasformazione è davvero qualcosa di molto originale, visto raramente per l'era dei trent'anni fa della G1, con i cingoli, sì, come ti ho visto su scavenger, che diventano le gambe, ma soprattutto se le braccia formano il muso, del lungo e del mezzo, e soprattutto, cosa che ho sempre adorato, il discorso che la palla del bulldozer ribaltata, divenga il petto del robot, in modo che praticamente non ci sia uno di pochissimi excavator, che sfrutta al meglio tutte le... tutti i vari... come si chiamano i vari... i kibble, gli avanzi del veicolo, vengono sfruttati al meglio, e c'è appena appena che il tettuccio questo qui dietro, mentre magari appunto i vari scrapper hanno la ruspa, il hook, l'uncino dietro, il braccio che dipende da dietro, mentre questo è l'unico magari macigno con le gambe ricavate dall'originale G1, che diventano... la vasca posteriore diventa le gambe, insomma, quindi fra due i macigno, se lo giocano bene... sarà degno anche il... questa versione Voyager moderna di... T-Bone Crusher, degno del G1, di redici, iniziamo ovviamente dalle... dalle gambe... ah, dimenticavo... come anche per... adesso vediamo... intanto hanno sistemato, rispetto alla versione Asbro, l'aggancio del bacino di... di Bone Crusher, che dicono che fosse abbastanza lasco e non si univa bene, mentre qui è molto più stabile. Così come, mi hai meno dimenticato di accennarlo la precedente recensione di... scavenger, hanno sistemato anche... niente di eccezionale, per carità... però hanno sistemato il discorso... hanno perfezionato... l'articolazione del ginocchio, rispetto al G1... alla versione Asbro, insomma... già che c'erano... giustamente l'articolazione... facciamo le cose per bene... adesso... fissarlo bene questo... articolazione... or, intanto andiamo avanti... anche qui le gambe... i piedi si aprono alla stessa maniera di... scavenger... più simili quindi... al G1... che aveva... proprio le punte dei cingoli piegate... mentre scavenger... alle punte... alle piedi dedicati... aveva... il G1... piedi dedicati... abbassiamo il modulo... che arriverà... l'anima... dell'avambraccio di Devastator... qui vediamo... che... anche qui... il muso... si divide... a formare le braccia... dispiegandosi... e infine... facciamo uscire la testa... spezzando il tettuccio... per farlo uscire la testa magari bisogna... spingerla... da dietro... spezzando un attimo il modulo... e avviciniamo il retro... del mezzo... all'uso... e infine... il nostro bel... scudo... frontale... diventa il petto del robot... ed ecco qui il nostro appunto... scudo... il nome originale... G1 italiano... con la sua pistola... e con il suo... con la sua batteria di missili... anche qui... come articolazioni... la trasformazione... è degna di un masterpiece... praticamente proprio perché... come... è un... una variazione moderna... e... fatta benissimo... dell'originale G1... il robot... è sempre... della taglia... media... di che si... con strattico... vediamo... in più... penzola solo... il... l'avambraccio qui... qua... non dà troppo fastidio... il modulo dell'avambraccio... articolazioni... anche qui... ball joint... come per scavenger... su gomiti... e... spalle... anche... rotazione... e... le caviglie... che si... possono... regale all'interno... testa... inoltre... un pochino... può adottare il busto... ma... vabbè... rispetto... vabbè... al petto... che è unito la base... grazie alla... l'articolazione... che ti verrà quella della spalla... del Devastator... niente di che... un piccolo... un masterpiece... economico... questa è la definizione... con cui chiamo questi... excavator... praticamente... perché... alla fine... manca davvero poco... per renderlo... effettivamente... un masterpiece... cosa mancherebbe? un paio di... articolazioni... qua sui polsi... rotazione dei piedi... l'apertura delle mani... il bacino magari... possiamo anche... non dico... saltarlo... per via della trasformazione... eccetera eccetera... visto che già anche... nel Star Saber... il Saber... il robot piccolo... gli mancava appunto... la... la rotazione del bacino... per via della... della... di... Brain Master... comunque... davvero molto bello... e... cambiamenti... ah si beh... dimenticavo... i cingoli... l'interno dei cingoli è viola... anziché essere tutto verde... sia come... il giocattolo... sia come il cartone... perché... è una... un compromesso... al fatto che... vedremo nella... costruzione più bassa... torre appunto... i cingoli di... Boncrash... diventavano viola... come quelli di... scavenger... quindi... è un compromesso... al fatto che... almeno frontalmente... è sempre tutto bello verde... mentre quando... si vedranno lateralmente i cingoli... sarà viola... soluzione adottata anche... per... la variante... SD... del... la... la variante del... del... San Diego Comico... in uscita quest'estate... inoltre... un po' poverello qui... nel petto... come dettagli... giusto giusto... il rosso... di alcuni dettagli... in questa qua centrale... proprio come... nel... nel... settei del G1... un po' peccato... perché... almeno... l'Hasbro era... richiamava di più... la colorazione... e gli adesivi del petto... anche questo qui... sarebbe un po' fuori posto... questa... la cabina ribaltata... e rimasta prima così... però... cita... la... il pannello che aveva... il G... non solo giocato al G1... ma soprattutto appunto... neanche dirlo... il settei... del cartone di matto... insomma... anche... boncrash... direi... che... così... buttata a occhio... è... il migliore... uscito... di questa... di questo gruppo... insieme a scavenger... forse un attimino di più... perché scavenger... alla fine... poteva essere... un po' più giocabile... scusa... della palla... mentre lui... nel suo piccolo... era vero ben fatto... ma in generale... questi due... come già dicevo all'inizio... della recensione di scavenger... dato che sono le braccia... e non è che abbiano... sta grande trasformazione... come braccia di Devastator... si sono permessi di essere... ben più snodati... ben più fedeli... eccetera eccetera... e direi ora di passare... alla... ci vediamo... alla terza parte... della vecchia recensione... dove avremo... parleremo... complessivamente... di Devastator... e della sua... e della sua... trasformazione... della sua combinazione... alla prossima... video recensione... per voi... abbiamo già visto... che adesso è sempre la scuola... per noi... che... che... cosi.... sufficio... se vi...